E' impossibile essere contatti con una carina pubblica senza volerlo, questo non ci tengo a niente proprio il danno già fatto vedere l'anno costretto alla direzione, è impossibile essere costretti, essere clienti o anche essere clienti se non lo si vuole fare, quindi è impossibile che costeggano a fare una cosa che non vogliono fare, cioè a cambiare il mestiere e a fare in politica, però poi rispondo ovviamente non sulle priorità, ma che la domanda è possibile ancora discutere sui temi, sulle cose senza fare presi, senza cose via, senza ammettere, no, è assolutamente impossibile, io d'animi, io dico a Santoro che dobbiamo smettere da diventare i politici, dobbiamo inventarci una trasmissione che parla di politica senza i politici, una trasmissione che parla di politica con degli esperti in cui si racconta quello che parla di politici, ma i politici? ci sono, tra la mattina alla sera ho televisione, quindi non c'è bisogno di una televisione più, quella secondo me sarebbe, speriamo, la vostra cosa che faccio. Grazie.